Salve a tutti signori, ben ritrovati in questo nuovissimo video. Un saluto a tutti da Max, una buona domenica, parliamo di Grande Fratello Vip perché abbiamo delle parole pesanti da parte di Luca Onestini verso l'ex fidanzata. Questo ha fatto scalpore, come molti ricorderanno, sicuramente Luca Onestini ha avuto una storia d'amore con la giornalista spagnola Cristina Porta. Infatti i due si erano conosciuti durante il reality spagnolo chiamato Secret Story. Purtroppo tra i due la relazione è finita male, con accuse reciproche, insomma non è finita nel migliore dei modi. Ma Luca, dopo sui social, intorno a marzo scriveva «Se la mia presenza infastidisce, preferisco eliminare il problema. Sono in hotel da ieri, per non una mia decisione, ma giusto per essere chiari». Lo stesso poi Luca Onestini aveva parlato dei motivi della rottura, riferendosi in particolare alla gelosia di lei, dicendo «Cristina controllava tutte le ragazze che seguivo su Instagram. Io invece non ho mai controllato chi seguisse lei». E poi, dopo diversi mesi dalla fine della loro storia d'amore, ora parlare è proprio Cristina Porta, che durante una diretta su Telesinco ha parlato con Gianmarco, cioè il fratello di Luca. Quest'ultimo ha accusato la giornalista di aver avuto un atteggiamento tossico durante la relazione. Dopo l'ennesimo attacco personale, Cristina Porta non ci ha visto più e ha vomitato di fronte a Gianmarco Onestini tutto il suo risentimento nei confronti del fratello Luca. Prima di tutto ha accusato lo stesso Gianmarco di non fare abbastanza per aiutare il fratello, dicendo «Povero fratellino, non sta bene e tu non lo aiuti. Tuo fratello ha torto. L'ho amato più di me stessa. Tu non lo ami, altrimenti lo aiuteresti». Poverino ad avere il fratello che ha. Perché non lo aiuti? Successivamente Cristina Porta ha parlato in modo più specifico del rapporto con Luca Onestini. «Io con Luca ho avuto problemi molto gravi. Ne ho parlato con qualcuno? Assolutamente no, con nessuno. Non l'ho denunciato, né l'ho raccontato in maniera pubblica. E ho le prove di tutto». E alla domanda a cosa si riferisse, però la giornalista ha preferito un attimino far finta di niente, cioè proprio sorvolare la situazione, ed è tornata a dire «Aiuta tuo fratello! Aiuta tuo fratello!». Ma nel frattempo, al grande fratello Luca Onestini continua al tira e molla con Nikita Pelison. La modella è molto attratta dall'ex di Uomini e Donne, ma quest'ultimo ha più volte ribadito che per lui si tratta soltanto di un'amicizia e niente più. Solo, come fa a notare qualcuno, i suoi comportamenti, che ne so, gli strusciamenti che fa, i baci, insomma, fanno intendere sicuramente qualcos'altro. E c'è chi accusa apertamente il geffino di non essere corretto e né sincero. E voi cosa ne pensate? Potete come al solito scriverlo qui sotto nei commenti. Nel frattempo, per questa news è tutto, Max vi saluta, vi augura una buona domenica a tutti e noi ci sentiremo a un prossimo video.